Due morti bianche in due giorni, due incidenti in territorio ebleo che devono certamente far riflettere perché continua il lungo rosario di operai morti sui luoghi di lavoro e quasi sempre come suggeriscono le statistiche per limiti dovuti alle procedure legate alla sicurezza. E quanto, in sintesi, afferma il sindacato CGL intervenuto subito dopo la morte di Antonio Scifo, l'operaio Edile caduto da un tetto alto 10 metri, mentre giovedì scorso stava facendo un sopralluogo su un capannone venduto all'asta nella zona industriale Asi tra Marina di Modica e Pozzallo. Un caso che ha aperto già diverse riflessioni, rimaste troppo tempo in sospeso, riflessioni sulla sicurezza nei posti di lavoro e sulle leggi che la disciplinano. La CGL ha chiesto un tavolo di confronto immediato sull'argomento, nonché la proclamazione del cordoglio cittadino a Pozzallo, in memoria e in onore di un operaio morto nell'adempimento del suo lavoro. Ma la morte di Antonio Scifo non è stata l'unica registrata in territorio ebleo nelle ultime ore. Proprio ieri pomeriggio un pensionato di 74 anni, Salvatore San Giorgio, è stato trovato morto nelle campagne di Santa Maria del Focallo, ad Ispica, dopo essere stato travolto dal suo motozappa. La macchina agricola gli ha tranciato la gamba mentre stava arando il terreno. La vittima dell'incidente sul lavoro, il secondo in meno di 24 ore, non è riuscita a chiamare i soccorsi. Al ritrovarlo esanime, sono stati i suoi familiari arrivati sul posto perché l'uomo non faceva rientro a casa. Sul posto anche l'ambulanza del 118 e i carabinieri, il magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.